Filippo Baldinini in tutto fare, anche il secondo cannoniero della Santa. Oggi è andata bene, terzo gol stagionale ma soprattutto è importantissima la vittoria che unita ai risultati che sono arrivati dagli altri campi ci permettono di affrontare il trittico di partite terribili che ci aspettano con un pizzico di serenità in più. Dove è stata vinta soprattutto oggi la partita? È stata vinta da squadra secondo me, doppio vantaggio, poi stavamo gestendo la partita in modo ottimo, eccezionale, purtroppo è capitato un infortunio, abbiamo subito un gol su un retropassaggio errato, ci può stare, capita anche in Serie A, capita anche da noi. Dopodiché l'inerzia è un po' cambiata, però abbiamo dimostrato di essere forti, di essere compatti e abbiamo chiuso la partita nel secondo tempo con il gol del 3-1. Un gruppo che sta trovando anche il suo carattere? Sì, oggi abbiamo dimostrato di avere carattere, è un gruppo in cui vanno a segno un po' tutti ed è una cosa fondamentale per una squadra che ambisce la vittoria finale e oggi sono particolarmente contento perché è andato in gol borgese che se lo meritava perché era dall'inizio secondo me che sta facendo bene, aveva bisogno di un episodio del genere per prendere ancora più fiducia in se stesso. Grazie.